Quanta Radio, la radio che ti ascolta. Le sezioni mistiche, aprite i vostri occhi per sfogare l'ira di una vita mai vissuta. Mani come forbici, per tagliare dentro l'audio si moltiplica, per ridare un senso a tutto e nulla. Per ridare un senso a tutto e nulla. Ma sono le idee, si trasformano e poi muoiono, dieci, cento, mille volte piangono come nuvole nel vento. Ma non posso aspettare, per ridare un senso a tutto e nulla. Per ridare un senso a tutto e nulla. Per ridare un senso a tutto e nulla. Ma non cambierò gli eventi, per ridare un senso a tutto e nulla. Per ridare un senso a tutto e nulla. Per ridare un senso a tutto e nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.